Siamo con Alessandro Davoglio, capitano dell'ACMA Ravenna, questa mattina presentazione ufficiale per la tua squadra qui in Comune Ravenna. Chiedo a Alessandro un po' di questa squadra nuova, come vedi questa nuova squadra con i nuovi acquisti per la prossima stagione, che sono le aspettative per la prossima stagione. La squadra quest'anno è stata rifondata e ci sono stati diversi nuovi acquisti. Il livello del campionato quest'anno è serzato molto rispetto a quello dell'anno scorso quindi la società ha fatto un grosso sforzo per adeguarsi a questo nuovo campionato. Sono stati fatti nesti importanti, però con gente di categoria superiori che riuscirà a darci quella spinta per ripartire da dove abbiamo finito l'anno scorso. Speriamo di togliersi delle belle soddisfazioni, però il punto dei risultati della situazione non lo faremo finiale. La prossima settimana primo trofeo sportivo dell'I.com a Imola, affrontate Ravenna che avete già, Ferrara che avete già incontrato nelle scorse settimane in Avicchio, le possibilità di una rivincita dopo questa sconfitta a Ferrara, seppur con diverse azze. Sì, diciamo che questi test d'inizio anno servono o non servono, è tutto relativo. Siamo andati là purtroppo senza il nostro reparto lunghi, loro sotto quell'aspetto erano molto più forti di noi. Adesso la squadra è completa, però ricordiamoci che il nostro obiettivo è il 25 settembre dove inizia il campionato, dove c'è un impaglio di due punti per la classifica e dove la palla è più pesante. Allora, ringraziamo Alessandro D'Avoglio che non è sempre bene e poi gli diamo appuntamento per il torneo della prossima settimana. Ok, ciao!